Al Policlinico di Bari il gradino più alto del podio tra gli ospedali pubblici del sud Italia a premiare il nosocomio del capoluogo la classifica World's Best Hospitals 2021 elaborata da Newsweek. Nello specifico la struttura guidata da Giovanni Migliore si piazza al 31esimo posto su 100 strutture omologhe di tutta Italia monitorate nel report. Non inedito dal momento che la rivista statunitense ridige di anno in anno un elenco che comprende le strutture di 25 paesi del mondo tenendo conto si intende della qualità delle prestazioni erogate. Nel 2021 vale doppio, plaudono dall'azienda ospedaliera guidata da Migliore abbiamo continuato a prenderci cura di tutti non soltanto dei pazienti covid precisano nelle scorse ore il via anche alla modulistica antifurbetti sul piano vaccinale. Grazie a tutti.